La Samaurese, vincitrice della Coppa Italia di Eccellenza Emilia-Romagna, affronta per la terza giornata di ritorno il Massa Lombarda. Giallorossi, privi di Babbini, Bezzi e Domeniconi si schierano con il consueto 4-3-3. Andreani tra i pali, in difesa Tartabini, Brolli, Rosini e Buda. A centrocampo Scarponi, Monti e Ndaie, il triente d'attacco Bonandi, Tani e Noschese. I padroni di casa partono subito forte e cercano di mettere in difficoltà i Ravennati, colpendoli dalle fasce, ma i cross non precisi non creano problemi. Al tredicesimo, la prima grande occasione per i giallorossi. Sulla tre quarti, Tartabini serve Noschese, sterzata in area dell'attaccante, servizio per Bonandi, che col piatto trova il primo palo, ma respinge Ticchi, poi la difesa si salva. San Maurese, che poi reclama due calci di rigore. Al quindicesimo, Bonandi cade in area dopo un contatto con Ragazzini. L'arbitro lascia proseguire e poi, quattro minuti dopo, Tani ruba il tempo allo stesso difensore e dopo il contatto cade in area per l'arbitro e fallo del numero 9 giallorosso. Al ventesimo, il primo tiro del Massa Lombarda con Caprioni, che calcia lato da buona posizione. Nassa Maurese abbassa il ritmo e gli ospiti ci provano con i lanci per Tedeschi, che appoggia per Caprioni. Proprio al trentaduesimo, i due giocatori si scambiano il pallone. Al limite, Caprioni si trova un buon pallone per tirare, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Il primo tempo, a vario di emozioni, si chiude sullo 0-0. La ripresa si apre con un tiro di Caprioni dai 20 metri, blocca sicuro Andreani. Al settimo, punizione per la San Maurese. Noschese mette in mezzo, Broglie anticipa tutti, ma di testa manda alto. Due minuti dopo, sugli sviluppi di una punizione, la palla finisce a Noschese. Il suo sinistro non crea problemi a Ticchi. All'undicesimo, Bonandi si libera al tiro dal limite dell'area, ma la sua conclusione è alta. Al tredicesimo, Monti ruba palla sulla tre quarti e serve in profondità il numero 10 giallorosso. Tiro è Ticchi che si supera mettendo in angolo. Due minuti dopo, ancora Bonandi al tiro dopo la torre di Indaio sul calcio d'angolo. Il pallone è alto. Il forcing della San Maurese crea un altro pericolo al ventitreesimo. Cross di Buda, Scarponi controlla bene, ma il suo sinistro, sull'uscita di Ticchi, è fuori. Dal ventottesimo la partita si sblocca. Bonandi, con le ultime energie, si guadagna un calcio di rigore per fallo di scala. Dal dischetto, lo stesso calciatore mette la palla in rete. 1-0 per la San Maurese. Il Massa Lombarda prova a rispondere con un tiro da circa 30 metri di Gallinucci, che finisce alto. Al trentanovesimo, grande occasione per Caprioni, che servito da Albonetti, si fa respingere il tiro a Tuperdu con Andreani. Al triplice, Fischio, grande soddisfazione per la San Maurese, che vincendo 1-0 raggiunge Cattolica e Ravenna al secondo posto. Era una settimana bellissima per la San Maurese, prima la vittoria in finale di Coppa Emilia-Romagna, e poi oggi una vittoria sofferta, ma che vi permette di accorciare anche dalle squadre davanti. Sì, sì, poche volte mi sono ricordato di aver vinto delle partite senza soffrire un po' la prerogativa del calcio. Oggi era inimmaginabile non soffrire contro una buona squadra, che si trova in acque cattive, ma una squadra sicuramente d'alta classifica. Noi oggi era la terza partita, e per una squadra di eccellenza, come vi ho detto già altre volte, diventa improponibile. Poi per loro era la seconda, per noi era la terza. Venivamo da una festa di mercoledì, un traguardo storico che ce lo teniamo stretti. E oggi è una partita che aveva mille insidie, ma avevamo i giocatori quasi contati, ma abbiamo fatto una partita di un'attenzione e di una tenacia da squadra di grossi livelli. San Maurese ha meritato sicuramente la vittoria, Massa Lombarda ha dimostrato di essere una squadra tonica, e anche i risultati degli altri campi fanno capire che questo campionato è equilibratissimo, ed è difficilissimo, uno dei più equilibrati degli ultimi anni. Lo dicevo prima, quando c'è squadre come questa, che sono abituati ad arrivare a quarta e quinta, quando c'è il Meldola nelle zone calde della classifica, che c'è una squadra media-alta, e diventa un problema per tutte, poi quando si vanno a affrontare queste squadre, che pensi di poter vincere, invece già se porti a casa un pareggio, molte volte è sufficiente. Poi dopo le squadre davanti, purtroppo hanno un obbligo di provare a vincere, perché vogliono fare qualcosa di importante, molte volte non le pareggi neanche, ci perdi. Il rischio di oggi nostro era di poterla perdere, non di pareggiarla. Adesso come si guarda il futuro con più ottimismo? Adesso io ho bisogno di stare a casa con la mia famiglia, oggi e domani, perché ho fatto una settimana che me la ricorderò per tanto tempo. Siamo stanchi, soprattutto i giocatori, la società, il mio staff, abbiamo speso tanto, ci serve un lunedì di riposo, siamo molto felici, indubbiamente, ma non eravamo neanche tristi prima della centese, eravamo un po' preoccupati, ma non tristi.